Il nostro impegno per Nocera continuerà, ha scritto l'ex assessore al commercio ed esponente di Nocera al centro Antonio Franza. Il risultato elettorale non ha premiato la nostra scelta politica ma non condizionerà certo l'impegno futuro per la città. In questi giorni, dice Franza, ho preferito non rilasciare dichiarazioni e soprattutto non rispondere alle continue provocazioni ricevute prima, durante e dopo la campagna elettorale. Dopo un'attenta e serena valutazione fatta insieme alle persone che non hanno mai smesso di starci vicino, la decisione è stata quella di non far mancare il nostro impegno per Nocera e per il territorio. Da semplici cittadini, da uomini e donne libere, al noi eletto sindaco, avvocato Paolo De Maio, faccio i complimenti per la vittoria elettorale, augurandogli buon lavoro, al nuovo consiglio comunale, all'aggiunta comunale che verrà, chiederemo un forte impegno per la comunità di Nocera. Valutazioni delle osservazioni presentate al PUC, aggiornamento del SIA, del riconoscimento del distretto del commercio, ampliamento dell'area industriale di Fosso Imperatore, realizzazione del progetto finanziato dalla regione Campania, le città dell'agro, un legame senza tempo, storie di santi e tradizioni. Bloccato fino a qualche giorno fa dall'incapacità di gestire i procedimenti amministrativi, su questi e su altri temi continueremo a lavorare con lo spirito costruttivo e orientato all'azione. La passione ed impegno profuso per il progetto politico di Nocera al centro continuerà insieme in collaborazione con la nascente realtà associativa immaginata dal nostro riferimento in consiglio comunale, il professor Giovanni D'Alessandro. Un impegno che intendiamo coltivare e far crescere, convinti che lo sviluppo passi da un'azione decisa, da una realtà e unità di intenti, da competenze specifiche, da un forte spirito di squadra, presupposti imprescindibili per un lavoro proficuo, ha concluso. Intanto, a Nocera continuano le consultazioni del neopremo cittadino per la formazione della nuova giunta, rose di nomi sono state consegnate già da alcune liste della coalizione. Il PD punterà sul suo presidente provinciale Federica Fortino, ai socialisti potrebbe andare il vice sindacato Sarascione e Monica Cicalese in pole position le contendenti alla poltrona vice di De Maio. La presidenza del civico consesso invece potrebbe andare ad Antonio Alfano della lista che ha ricevuto maggiori consensi, passione per Nocera. Tra gli altri nomi che potrebbero entrare a far parte dell'esecutivo circolano ancora quelli di Massimiliano Mercede e Renato Guerritore. Grazie. 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 Grazie.